L'aveva ripetutamente accoltellata, poi aveva avvolto il corpo in una coperta e l'aveva abbandonato nel corridoio dell'appartamento in cui doveva trasferirsi con la compagna. E' qui che lo avevano scoperto i carabinieri dopo 36 ore. Era lo scorso 15 gennaio e per allora Marino, 51 anni di Morcone, era stato tutto inutile. Quei colpi avevano stroncato la sua esistenza, quella di una donna che gestiva un'agenzia assicurativa ed era molto impegnata nel sociale. Era presidente di una ONLUS, un'associazione alla quale collaborava Damiano De Michele, 34 anni, operaio. Aveva confessato l'omicidio, lo aveva spiegato con il timore che lei potesse rivelare la loro relazione, nata alcuni mesi prima. Sarà giudicato a novembre con il rito abbreviato che prevede la riduzione di un terzo della pena. Un delitto che aveva fortemente scosso l'opinione pubblica. Tragico epilogo, aveva raccontato l'uomo, di una lite scoppiata nella cucina dell'abitazione nel centro storico, che lui aveva preso infitto per farne la dimora con la sua convivente, in stato di gravidanza. Quando era stato interrogato, De Michele aveva spiegato e aveva strappato dalle mani di Aurora uno spadino che aveva poi usato contro di lei, decine di volte, per parola che lei dicesse tutto.